Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Lens OP Bene, andiamo a livellare e poi andare avanti Vediamo cosa possiamo fare Nuovo livello 6 punti, adesso lo porterò a 50 Poi vedo cosa fare Allora, andiamo avanti Andiamo di qua Possiamo fare quasi un altro livello Meglio così Andiamo di qua Qui non c'è niente Qua ci dovrebbe essere uno shotgun Che abiliteremo poi Qua c'è uno strozzo Beh, tutto a posto nel senso Io non ho veramente parole Vabbè Che ci volete fa? E' andata così un inizio da palico insomma Che ci volete fa? E ricominciamo da capo Beh, mi fa piacere dai Mi ha fatto parecchio Cioè, una roba Proprio incredibile Allora, diciamo di qua Che c'è da fare qualcosa Mi fa che arrivare Pum, pum, pum Pum, pum Mi spune Eh, adesso è andata così Che ci volete fa? Allora, sto stronzio qua Come la mette al signoro? Eh, cazzo A un certo punto Ecco qua Si capisce un cazzo Però è contento così Poi prendiamo questo Che ottimo Poi qua Dobbiamo Scendere Scendere Da questa parte Facendo Cuckoo Il cuckoo Eccolo qua Sono a posto Oh, perché Ci ha fatto cliccare in mano Ma signoro Non si fa così Eh Eh, insomma Andiamo di qua Andiamo di qua E dobbiamo prendere Questo Sì, domani Grazie Un altro giorno Grazie Perfetto E questa è andata Oh, porca vacca Lei signore Da dove cazzo esce? Grazie No E poi la scorreggia Mia che è d'osso Non lo so Eccoci qua Ok A posto Ancora non è morto Eh, che palle Anche Eh, ma vaffanculo Ma c'hai Niente da scendere qua Non mi sembra Saliamo Ah, porca miseria Che posto carino Da farci le vacanze Così vedo anche se c'è qualcosa Non dovrebbe esserci nulla Perfetto Allora, di qua non si va Di qua si Vediamo se non ci sono sorprese particolari Una lettera D'altra che abbiamo già viste tutte Qui fa poco ci dovrebbe essere una farfalla Ok Vediamo un po' Ecco adesso non mi ricordo Da che parte È la farfalla Sarà qua sicuro Verrà che qua c'è gente Non vedo nessuno Non sento nessuno Sono sicuro che arrivi qualcuno Come l'ho detto Ok, te Non mi piaci Perché sei uno scuocco e rame Allora, io non penso ci sia Altra gente Eccola qua Ok Grande Oh, potenziamento Per far l'arma Più uno Vaffanculo Sti lock di merda Sì, bravi Ora venite qua Che è meglio Mi fate fuori da soli Siamo tutti più felici Quanto gli manca morire Eh, il lock Perfetto E questa è andata Poi Andiamo qua No, questo scuocco e rame no Grazie Qua Oh Che belle sorprese C'è qualcos'altro qui Madonna, ma quanto duro è sto coso Ok Non c'è niente E non c'è niente Allora, di qua Non c'è niente E io penso e credo a questo punto Dobbiamo andare Di qua siamo venuti Di là siamo andati Io penso che possiamo andare di sopra tranquillamente 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 Eh, che cazzo Sapevo io che c'era uno strontino agguato Dov'è lo strontino? Ah, è qui Eh, non ci arrivo Allora, con calma Perché tanto Di morire c'è sempre tempo Ok Di qua Ma che io non ci arrivi No, non ci arrivo Però forse magari qua sì Allora Vai Ok Ok E questo è sistemato Poi vediamo cos'altro C'è da fare Da qui siamo venuti Perché c'è un baccello assurdo Da lì non possiamo andare Oddio, sì Volendo sì Vediamo un po' Adesso guardo il mio video Perché non vorrei far cacate Tanto ne faccio tante Di te né più né meno Però volevo Salve Vedere effettivamente Mi sembra che qui ci sia Uno stronzio Ecco E cominciamo già bene Ah, porca vacca Allora Bravo Tu muori adesso Perfetto Adesso io non posso salire Perché c'è una tossica Volevo dire bene male Che ci fosse Niente Quindi posso venire qui A prenderla Appena questo square house Se ne va Eh, ci vuol pazienza Insomma Allora Niente, è ancora lì Signore Lei ha una roba Molto tossica Adosso Ok Salve Eh, vaffanculo Eccoci qua E questa è andata Poi Venga Grazie Una palla Mi ha dato una palla Non volevo andare Troppo avanti Mi sembra che ci siano Shotcut Da militare Mi sa che qua Ci doveva venire dopo Qui dove ho ammazzato Il tipo Allora Andiamo di sotto Prima perché Mi ricordo Uno shot Cattare da qualche parte E vorrei abilitarlo Siccome qui Mi hanno ammazzato tutti Senza problemi eccessivi Si sta ripristinando tutto Ne approfitterei Senza cadere giù Possibilmente Adesso mi guardo video Oh ma c'è un signore simpatico Ecco qua Mi ha ripristinato Anche un altro Poi il burattino Esatto Lo shotcut Mi ricordavo Ottimo Così adesso Non mi ricordo Un cazzo di dov'è Però nel caso Dovessi morire Lo cerco E siamo a posto Ok Adesso è venuto Il momento di guardare Il mio video Ok Dobbiamo andare verso Un posto Cioè Prenderà l'arma Che Del luogo Adesso così A meno Le completiamo tutte Che ci mancava Vedete Le abbiamo quasi Questa qui Ci manca E penso che le abbiamo Tutte il resto Dovremmo averle tutte Sì Le abbiamo perse tutte Questa è l'ultima arma Del gioco Bellissimo A parte Vabbè Quella Del Dei boss Eccetera Vabbè Andiamo avanti Ok Devo prendere Mi sembra quella Del boss I conigli Ancora Appena vado A casa Come l'essi Lo prendo Vediamo un po' Qui dovrebbe esserci Un simpatico Carino Appello bianco Bianco Che non cucevo mai stanco Ah Non è caduto Cioè Aspetta proprio me Signore Per cadere Ok Perfetto Vediamo cosa c'è qui Ottimo Beh Quella L'ho usata Quindi mi fa Comodo avercela Qui non ancora Qui non ancora Ora Cioè Non ancora Perché siamo già stati Nel senso Stiamo attenti Prendiamo questo Tom Libro C'è Ok Continuiamo E qui dovrebbe esserci Due stanze No Ce n'è solo uno E c'è anche uno stronzo Beh sono contento Dai però Ok Eh non ce l'ho fatta Anche ho finito Lo stamalina Comunque Sia L'abbiamo fatto Allora Prima di cadere giù Per vedere qui cosa c'è Prendiamo questa arma Che è l'ultima Perfetto Meno che non mi sia sfuggita una C'è Da prendere ancora Perché le ho prese tutte Nella scorsa Aran Quindi sono sicuro Deve fatto bene Qui Non mi ricordo Ok Si ritorna giù Sì Sapevo che si ritorna Se giù Però Magari una stanza Chiusa Qualcosa Ok Cosa facciamo Cosa facciamo Allora qui si può andare Ma dove siamo venuti C'era il tipo Sì che sparava Ok Sto facendo un mantelo calo Scusate ma Devo anche capire dove andare Ma che ho fottuto il labirinto Ah qui mi ricordo Però prima bisogna fare qualcosa Ecco Questo Quello lì dovevamo fare Allora devo vedere il video Perché devo capire cosa fare A meno che non mi arrivi qualcuno Speriamo di no Spero Aspetta dimmi vedere va Perché devo mettere Non c'è la pausa qui Ok Quello sembra che non mi abbia ancora visto Quindi metto qua Allora tutto chiaro Dobbiamo salire Per abilitare Un Ponte Per arrivare da quelli lì che sparano Allora Oddio santo Mi ha fatto cacare in mano Andiamo qui Salve Eh lo so però Non potevo fare diverso Devo parare E qui c'è un altro che Si allunga Sto coso Eh Sì Qui in sto gioco si allunga un sacco di cose Il naso E le robe Insomma E tutto un allungamento di cose Ok Qui non c'è nessun altro Qui si scende E qui Qui c'è qualcosa Eh sì sì Immaginavo Allora andiamo di qua prima E qui Abilitiamo il ponte Perfetto Adesso possiamo arrivare da quello che spara Perché se no ci potevamo arrivare Bene Ok Per arrivare Dallo strunzone Io non ricordo dov'è Ecco qua Di qua Veloci perché ci arriviamo Quelli alle spalle Questo qua Non è per niente simpatico Ok Apriamo un po' Vai E ne arriva anche un altro E non è simpatico Ok Triplo Kick Kill Cioè che kick Che cazzo c'è Ok Preso Mamma mia Che rischio Il triplo shot È stato bellissimo Andiamo a vedere Cosa c'è qua Eh Pensavo di non farcela Allora Vediamo un po' Ah Questo è più Uno Beh Finalmente uno più uno Ce l'ha dato Dunque Era anche interessante Dunque Questo qui aumenta Il pv L'energia E la regione Che è molto buono Realmente buono Non so che adesso Ho messo quelli Quindi Per il momento Lascerò quelli Ah C'è qualcosa Qui deve salire Ma io voglio ancora scendere Perché c'è una cassa di sotto Un baulo Mettiamo il baulo Qui c'è uno shot C'è un po' di roba Da fare Sono brutti Tutti vero Non è che si deve scendere Trova qualcosa Perfetto Vediamo cosa c'è Il baulo A questo punto Un quarto Ci sarà Non ci sarà mai Uh L'anello L'anello L'anelloso Oh Riduzione di Tre in più Pesa Mi da solo Tre in più Di difesa E pesa 17 in più Ma cazzo E' una supposta Peperoncino Questa Oh porca vacca Oh cazzo Vabbè Cioè dammi 20 Tente di difesa In più Per darmi così tanto Di peso Cioè Veramente Non ha un cazzo Di senso Cioè non è che Ci cambia la vita Avere tre di difesa In più Capite E invece ci cambia la vita Avere 17 kg in più Eh La linea è importante Allora Vediamo un po' di abilità A questo shortcut Che ci porterà al santuario Io volevo anche prendere Questa roba qui Che mi ricordo Che non era così Improponibile Da fare Fatemi vedere Va che è meglio Allora Permettendo Che non cadere Ok Questa è una Siamo sicuri Non me lo ricordavo Ok Calma però Rilassata Eccoci qua E adesso Cioè Io l'avevo pensato In modo diverso Sono abbastanza sicuro Che fosse così Comunque Ritagliamo su Tanto cosa Ci fermiamo a fare Abbiamo ancora Tutte le fiaschette Prima di più Ci stiamo rigenerando Dai insomma Non ne vedo il motivo Andiamo di qua Andiamo di qua Poi abbiamo pulito bene Cioè cosa faccio Andiamo di qua Andiamo di qua Vediamo se c'è qualcos'altro Da prendere qui Mi sembrava di sì A memoria Quindi sono abbastanza sicuro Che ci fosse effettivamente qualcosa Però non mi ricordo dove Mi sembra lì Ci guardo e mi dico Esatto Dovevamo andare dove c'è il ponte Quindi dobbiamo scendere un attimo Che mi ricordavo ci fosse qualcosa Però Memoria permettendo Non ricordo cosa sia Però mi ricordo che c'è un item Allora andiamo di qua Attraversiamo il ponte E vediamo come fare Adesso non mi ricordo come si scende Bene Mi sembra così Perfetto Adesso così Ottimo Ok questo E' sempre un item Insomma alla fine Vabbè questa Questa era importantissima Perché ce ne sono limitate Ogni run Quindi Era di vitale importanza Prenderla Ok Adesso Fatto ciò Torniamo su Ah questa era proprio Importantissima Meno male Certo che andate così Non ricordarselo Ok Ok Mi ricordo già dove devo andare Io La memoria Non andiamo per niente d'accordo Come Sta cazzo Ora ci risalgo qua Chi si ricorda Vabbè Comunque posso anche Eh Queste l'ho preso Lo sciolto Scusate voi Come sono i coglioni Siamo messi bene Per risalire Un po' Casino Posso usare direttamente Il coso Dai facciamo prima Così saliamo Direttamente Da là Tanti saluti E Livelliamo Sto punto Visto che ho resettato Potrei anche aumentare L'arma Ma Ci pensero poi Fa poco c'è anche Arlecchia C'è un po' di cose Da fare Allora Vediamo un po' Salva C'è Cosa Aumento di livello Benissimo E Quando arriviamo A 50 Ci fermiamo Poi O metto vigore O metto un altro po' Di capacità Forza motrice Potete portare a 50 Potete far così E basta Per il resto Penso che sia così Allora Quindi noi dobbiamo Salire qui Salire qui Con calma Questo mettiamo così Poi salire qui È tutta una salita Insomma Salire ancora qui C'è il tipo C'è il tipo che spara Ok Accidenti Ok Salire qua E siamo Allora Perfetto C'è sicuramente Qualcuno Ma io Mi ricordavo Che ci fosse Qualcosa Che qui Oh Vedete La memoria E non è neanche Una cosa brutta Perché queste Non è che si trovino Tanto facilmente Quindi Sono abbastanza Quanto di averla trovata E gli siamo Ricordata Soprattutto Vediamo quanti stronti Ci saranno qua Oh Porca vacca Lo ricordo vagamente Sto posto E ho cercato Di rimuoverlo Quelli si Si prolungano Vediamo un po' Qui dovrebbe esserci La sorpresina A certo punto C'è anche una cassa Allora Oh Beh Sta riscaldando il muro Beh Per carità Ecco Sì Ma anche Svergato Ok Perfetto Adesso andiamo Anche da lui Perché qua Non si può Far niente E siamo a posto No signore Non si fa Così Maleducazione E anche Questa è andata Poi Adesso io Ritornerei indietro Perché comunque C'è la trappola Sì Quello abbiamo preso Era quello lì Caterizzatore E qua Non penso sia Il caso Quindi tornerei indietro Qua si può scendere Però io mi ricordo Che ci fosse Un'altra strada Prima Vorrei controllare Bene Grazie Perché c'era Di là Che il coso Che si allungava Come cazzo Si chiama Il coso Che si allunga Insomma Nel senso Vediamo un po' Da qui Sono venuto E' un cazzo Di casino Ricordarsi le cose Sembra di sì Sì Scusate Ma non si capisce Un cazzo Andiamo andando In quella direzione Dove si allungava Il cosino Qua Insomma Il rotolo Che era di qua Sì Era qua Aspetta che non ci sia Niente qui Vediamo se ci riesco Sì ma te sei Bel figlio di Troia Ok ce l'ho fatta Non mi ricordo Se si rompeva Comunque non volevo rischiare Ed ecco qui Questo è molto importante Perché è un potenziamento Non dà poco Adesso può anche rompersi No non si rompeva Va bene dai Ci salutiamo Che vacca Che nel prossimo episodio Andiamo avanti Perché ci sarà proprio Da ridere Ma proprio tanto Quindi ragazzi Come al solito Vi invito alla saluta A che argomento Ci piacerebbe E fammi sapere Cosa ne pensate Prima di un saluto Ciao 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 ciao